Jasmine Carrisi parte all'attacco del padre Albano, le parole inaspettate della piccola di casa potrebbero non piacere al cantante . Jasmine Carrisi è andata per la prima volta contro il padre Albano, la giovane di casa ha scritto alcune parole che potrebbero essere un duro colpo per il cantante di Cellino San Marco La ragazza è molto attiva sui social e qui condivide molti aspetti della sua vita, nessuno si sarebbe aspettato che scrivesse qualcosa di simile per il suo papà e invece l'ha fatto davvero, sorprendendo chi segue lei e anche i fan del cantante pugliese Jasmine Carrisi, cosa ha scritto su Instagram contro il padre Albano Jasmine Carrisi e Albano sono stati ospiti di Silvia Toffanina Verissimo, padre e figlia hanno trascorso un momento assieme raccontando diversi aneddoti del loro rapporto La ragazza prima aveva scritto qualcosa sul padre che ha sorpreso chi la segue Come si vede dall'immagine nel dare appuntamento ai followers per la puntata di Verissimo, ha scritto, domani una delle voci migliori d'Italia a Verissimo, ah e ci sarà anche Albano Queste le parole della ragazza che ha voluto ironizzare sui social, anche Jasmine ha iniziato una carriera nel mondo della musica e la battuta è rivolta proprio a questo Lei e il padre a Silvia Toffanina hanno raccontato molte cose e non sono mancati i momenti in cui Jasmine ha praticamente spiazzato Albano La ragazza ha parlato di che tipo di padre sia il cantante, spiegando che le ha sempre lasciato i suoi spazi e non è mai stato geloso come papà La piccola di casa Carrisi ha anche raccontato che un tempo aveva un fidanzato che piaceva molto al padre che ancora oggi non comprende perché si siano lasciati Albano e Jasmine hanno uno splendido rapporto, condividono l'amore per la musica e tante altre passioni La piccola di casa Carrisi ha stupito il suo papà quando a Silvia Toffanina ha parlato del suo desiderio di maternità Forse adesso sono pronta a trovare la persona giusta, perché io sento già il desiderio di diventare mamma Una confessione inaspettata quella di Jasmine che praticamente ha detto di voler trovare l'amore di di essere pronta a costruire una famiglia Albano però non sembra essere molto convinto Infatti ha invitato la figlia a concludere gli studi, punto punto punto, se ami veramente questa carriera devi portarla avanti E quando sarai tranquilla farai quello che vuoi, queste le parole del cantante